Eccoci qui, buon venerdì a tutti, siamo all'ultima puntata prima delle festività natalizie. Come tradizione vuole, sapete ogni anno noi dedichiamo un po' di approfondimento, facciamo il focus su quello che accadrà a livello meteorologico, l'abbiamo già fatto negli anni passati, abbiamo qui con noi il nostro carissimo amico Michele Ceglia, Meteo Like, grazie Michele per essere qui. Ciao Felice, grazie per l'invito, ci vediamo prima delle feste per fare un po' il punto della situazione sull'andamento meteorologico qui ad Altamura, ma direi anche territorio Puglia e Basilicata. Sì, diciamo che un po' tutti sono interessati, vogliono sapere che tipo di previsioni ci sono, cosa accadrà, piove, non piove, farà caldo, farà freddo, nevicherà, tutti abbiamo questa cosa. Sciogliamo la neve subito, sciogliamo gli dubbi. Neve non ce n'è, manco l'ombra Michele. Assolutamente no, felice direi un Natal tropical così, per esagerare un po', per riprendere anche qualche film, il Cine Panettoni. Qui alle nostre spalle c'è la nostra webcam puntata sul centro storico di Altamura e come vedi è un'immagine appunto di un cielo sereno, di alta pressione, questa figura abbarica che ormai non ci molla sia in estate che in inverno e di conseguenza porterà un bel tempo, quindi un cielo sereno poco nuvoloso, qualche velatura innocua e poi durante la sera c'è la formazione di qualche nebbia o foschia e un abbassamento di qualche grado della temperatura. Però in linea di massima avremo un bel tepore natalizio con temperature anche oltre ai 16-17 gradi. Quindi un po' per grandi linee come la giornata di oggi, freddolina la mattina, basta coprirsi e mettersi qualcosa addosso, poi durante il giorno tende a riscaldarsi la giornata, il sole comunque. Diciamo che la mattina ovviamente all'alba ci sono quei 4-5-6 gradi, poi l'aria ovviamente si riscalda, quindi già verso le 9 abbiamo un bel sole alto che riscalda, si raggiungono picchi di 13-14 gradi qui nell'entroterra murgiano, ovviamente poi andando verso la costa abbiamo qualche grado in più, sia verso l'Adriatico che sullo Ionio e poi dopo il tramonto, quindi dalle 17 in poi, c'è nuovamente un calo delle temperature che si portano intorno ai 7-8 gradi e poi possiamo assistere al fenomeno dell'inversione termica, ossia andando nelle zone periferiche, anche di Altamura in aperta campagna, si possono raggiungere anche 3-4 gradi, perché più ci si allontana dall'isola di calore della città, più la temperatura si abbassa. Perché le città si chiamano isole di calore? Per tutto un insieme di cose? Perché c'è tutto un agglomerato di cemento delle strade che ovviamente trattengono il calore durante la giornata, questo calore viene disperso durante la sera e quindi la temperatura del centro è più alta rispetto a... E' quello, ok, ok. Viene chiamata in questo modo qui. Allora, tu hai preparato, partirei, pregherei la regia, partiamo con una grafica, è diciamo un po' tecnica, però Michele cercherà un po' di spiegarcela. Quando è gialla e arancione vuol dire che è bel tempo. È bel tempo, sì, questa è una classica figura di alta pressione, questo diciamo giallo a scalare, quindi con tonalità più calda e quindi dal giallo fino al rosso, e significa appunto alta pressione, bel tempo, è un'alta pressione che ingloba un po' tutta l'Italia, ma direi che il focus è più sull'Italia centro-meridionale. Però ecco, per esempio, sto vedendo le regioni tirreniche, Calabria, Campania, le due isole maggiori, avranno temperature ancora più alte rispetto a noi. Esatto, perché proprio essendo un anticiclone subtropicale che arriva dall'entroterra, a Sariano dall'Africa, ovviamente l'Africa ha due passi rispetto alla Sicilia e alla Sardegna, quindi le prime zone ad essere interessate sono proprio quelle occidentali. Poi man mano che si sale, avremo lo stesso clima, le stesse temperature su gran parte della penisola. Poi abbiamo un'altra grafica, qui credo questa sia di Trebimeteo, ci fa capire cosa accadrà nella giornata di Natale, insomma è anche tutta soleggiata l'Italia. Sì, è un Natale soleggiato con la presenza magari di qualche velatura innocua, qualche banco di nebbia, soprattutto lì in Valpadana, sul nord Italia, anche sulle regioni tirreniche, perché appunto c'è anche un afflusso di nuvole verso il Tirreno, mentre dall'altra parte, ossia sul lato Adriatico oppure Basilicata, come vedete, abbiamo un cielo quasi sgombro dalle nubi, temperature in rialzo, ripeto, qualche foschia sempre durante la notte al primo mattino, in dissolvimento, ovviamente durante le ore più calde ritornano poi nuovamente cieli sereni. Abbiamo credo anche il focus sulla Puglia, in modo tale che vediamo proprio il giorno di Natale. Qualche nuvoletta, ecco qui, diciamo nell'entroterra, sull'area murgiana. Sì, diciamo che sono le nuvole pomeridiane, un po' che si formano dalla tarda mattinata fino al primo pomeriggio, che interessano un po' le zone collinari della Murgia, della Valle d'Itria, il sud-est parese, però tendenzialmente, come vedi, Felice è un giallo da apertura. C'è la nuvoletta assieme al sole, vuol dire che ci sarà questa alternanza. Qualche piccola nuvoletta. Disturbo, disturbo nuvoloso, niente più. Quindi Natale, Vigile, Santo Stefano, l'avete visto, sarà così soleggiato, un po' come oggi, quindi potremo stare in casa, però quando c'è quest'aria è anche bello fare una passeggiata all'aria aperta. Perché no, Felice? Io ho anche scritto in uno degli ultimi articoli di Meteolike, è il classico clima da aperitivi all'aperto, da passeggiato in centro, shopping natalizio, perché no, alla fine il bel tempo mette di buon umore, quindi la gente esce, va in giro. Ovviamente io da meteo appassionato un po' sono deluso perché chi non vuole la neve il giorno di Natale proprio perché nell'immaginario dalla meteorologia del meteo appassionato c'è proprio il periodo natalizio che dovrebbe un po' passare con il freddo. E' vero che la meteorologia non è poesia, è scienza, ma un miracolo non può accadere mai, cioè con quello che abbiamo visto, nuvole che portano un po' di neve non ce n'è. Assolutamente no, diciamo che fino al 28-30, ma direi anche oltre, ci sarà questo dominio anticiclonico che porterà bel tempo, per i bambini che magari... Magari a gennaio, Felice, vediamo un po' per gennaio. In realtà sono un po', ecco, hanno una visione distorta, ai poverini, insomma, tutti questi film natalizi che fanno in tv con la neve, tutta questa roba, città illuminata e festosa, Altamura quest'anno è un po' diversa rispetto agli altri anni. E' un po' spetta, dai, diciamo così. Felice, magari la neve la si può trovare in questo momento in America, a New York, ci sono dai meno 20 ai meno 50 gradi, quindi l'Europa... Come New York è sullo stesso meridiano nostro, di Altamura? Eh sì, dall'altra parte, però con un clima totalmente diverso dal nostro, perché appunto lì le masse d'aria dal circolo polare artico arrivano dirette... Più spregiudicato. Più spregiudicato, è molto più estremo il clima americano e in questo momento, ripeto, c'è un'ondata severa di freddo, sicuramente ne parleranno nei Tg, con nevicate anche sulla costa, sì. Senti, ma da noi che so, nell'Appennino centrale c'è un po' di neve o sulla Sila, no? Pochissima, Felice, ne è caduta un po' tra novembre e l'inizio di dicembre, però questo scirocco mangianeve che abbiamo avuto la settimana scorsa... Eh, ricordo, non si poteva nemmeno passeggiare per il corso, era tutto bagnato. Era una saponetta, praticamente... C'era proprio una lastra di umidità. Di umidità. Esatto, e quindi lo scirocco ha mangiato praticamente quasi tutta la neve sul nostro Appennino, sia sulla Sila, sul Pollino, magari qualcosa sulle cime oltre i 2000 metri, però, d'altro canto, possiamo dire che sulle Alpi c'è molta neve rispetto all'anno scorso, infatti sono state interessate da una perturbazione le Alpi occidentali, Torino, eccetera, e quindi al momento l'Appennino è in sofferenza, per quanto riguarda la neve, sì. Quindi, bambini, ahimè, ci sarebbe piaciuto darvi qualche cosa. Adesso spostiamoci di qualche giorno più avanti perché abbiamo Capodanno. Allora, il giorno 1, più o meno è uguale, anzi, zero nuvole, un pochino di nebbia, sembra. Sì, Felice è desolato, cioè nel senso, dal punto di vista meteorologico, vedere questa cartina. Sì, ripeto, anticiclone che aumenterà, si rafforzerà anche nei giorni a seguire il Natale e avremo ancora bel tempo. Temperature in ulteriore aumento, quindi picchi di 18 gradi sull'Eccese, sul Foggiano, sull'Ofantino, sul Barese. Ripeto, la parvenza invernale sarà quella da dopo il tramonto, quindi durante la sera, al primo mattino, con la formazione delle foschie e dei banchi di nebbia che faranno abbassare un po' la temperatura e poi si ripartirà nuovamente con alta pressione, sole e cieli azzurri. Con questo clima cosa è, diciamo, consigliabile evitare a tavola? O ci dobbiamo lasciare un po' andare? No, ci lasciamo andare, io direi di lasciarci andare perché alla fine è Natale, appunto, è una volta l'anno, quindi cerchiamo di mangiare. Magari non ci sono temperature molto fredde, quindi evitiamo alcolici così non ci surriscaldiamo e facciamo un'alimentazione più leggera, equilibrata. Ecco, però, vedendo queste giornate soleggiate, chi magari ha una casetta in campagna vicino al centro abitato le può approfittare, fare Natale in campagna, fare una passeggiata, un barbecue all'aperto, ti copri un maglioncino. Esatto, diciamo un Natale tipo ferragosto, da passare all'aperto, nel senso che ovviamente alle 13, alle 14 il sole è bello alto. All'ora del barbecue si può stare fuori. Nel barbecue ci può stare, sì, alla fine il tempo permette. Puoi fumarti una sigaretta tranquillamente fuori all'aperto senza che i non fumatori ti dicono vai allontanati, è anche giusto. Quindi puoi uscire tranquillamente senza problemi. Guardiamo un po' la pioggia, perché tu sei anche uno che raccoglie i dati della pioggia. Noi abbiamo avuto, fino a pochi giorni fa, un periodo abbastanza intenso. Ecco, se ci vuoi spiegare un po' questa... Sì, allora, i dati pluviometrici, quindi la pioggia di Altamura, vengono raccolti dalla nostra stazione Meteo, che è una Davis VP2 installata sul centro storico di Altamura, e quindi il pluviometro, in questo caso, segnala una pioggia totale annuale su Altamura di 520 mm per il 2022. Direi, Felice, che è un dato più che soddisfacente, perché basta pensare che due mesi fa eravamo a 300 mm, quindi c'è stato un recupero... No, no, torniamo sulla videata prima alla regia, sto chiedendo, ecco. Sì, quindi c'è stato un recupero importante, soprattutto a novembre e prima parte di dicembre, anche a ottobre, abbiamo recuperato quasi del tutto il deficit pluviometrico. tieni presente che la media annuale di Altamura è 5,50, quindi dai, più o meno stiamo lì, 520. 5,20, quindi siamo nella media stragionale. Esatto, magari un 10-15% in meno, però sostanzialmente c'è stato un recupero. Quindi dal punto di vista della pioggia, almeno possiamo dire che è un anno nella norma. È un anno nella norma. Mentre qui, cosa abbiamo? Questo è un focus su Altamura. Su Altamura, sì, ma riguarda un po' tutta la Puglia e la Basilicata. Allora, se dal punto di vista pluviometrico della pioggia siamo nella norma, questo è un grafico che fa vedere l'andamento delle temperature, lo spiego brevemente. La linea rossa è la media trentennale, quella al centro, della temperatura media in questo periodo di Altamura. Poi questi sono degli ensemble, detti in italiano degli spaghetti, sono delle varie risoluzioni modellisti che fanno vedere il tempo. E poi la linea bianca è la media di queste soluzioni, diciamo, meteorologiche. Quindi è nettamente al di sopra. È nettamente al di sopra della media trentennale che va appunto dai 3 gradi in più fino ad arrivare ai 7-8 gradi proprio tra il 27, il 28 e il 29 e poi piano piano scende ma non si avvicina mai alla linea rossa. significa che le temperature piano piano si abbasseranno. Quindi, felice, possiamo dire che da oggi, 23 fino all'8 di gennaio, le temperature si manterranno costantemente sopra media. E quindi nelle giornate 27, 28, 29 andremo addirittura a oltre. Esatto. Arriveremo a 18, 19 gradi. 19 gradi. Forse anche 20 gradi. Forse anche 20 gradi. Sì, sì. Qualcosa di eccezionale. Un'altra è un po' diverso sotto il punto di vista meteorologico e per carità. Però le temperature ci invogliano anche perché la mattina è all'imbrunire, come avete visto al tramonto insomma fa freddino, ci invogliano a stare in casa con gli amici, i parenti e godersi il focolare e gli affetti della famiglia. Assolutamente. Gli affetti vanno sempre mantenuti e curati perché poi quando non ci sono più le persone care ci mancano e quindi è meglio godersele in vita, le persone care. Allora Michele, quindi un Natale tutto sommato come già tutti. Sereno in tutti i sensi spero. Si pensava e quindi non avremo a livello meteorologico colpi di testa, quindi manca una nuvola impazzita che arriva a zero, anche acqua. Niente, niente, magari no. Purtroppo no, nuvole zero perché appunto questa alta pressione è proprio una campana dove le nuvole rimbalzano e si distruggono completamente. Esattamente, ripeto, magari per l'anno prossimo cerchiamo di vedere un po' se il freddo riesce a farci visita. Tieni presente che alla fine, diciamo sostanzialmente l'inverno è iniziato due giorni fa, il 21, quindi abbiamo tre mesi fino al 21 marzo per sperare in qualche ondata di freddo. Ma come si dice, a livello di statistiche cosa si prevede? Che tipo di inverno avremo? I termini generali. I termini generali. Allora, a me non piace sbilanciarmi oltre i 10-15 giorni, altrimenti diventa fanta meteorologia, cioè come lanciare una monetina. Allora, statisticamente dovrebbe, insomma, capitare una eruzione di aria fredda, però non ti so dire quando, magari da metà gennaio, perché adesso non voglio addentrarmi in termini più tecnici, adesso abbiamo un pattern, una situazione calda, subtropicale, che potrebbe rovesciarsi. Quindi praticamente questa alta pressione si eleva verso l'Inghilterra, la cosiddetta alta pressione degli Azzorra e di riflesso potrebbe scendere l'aria fredda dalla Russia e dai Balcani, perché alla fine il freddo c'è, però è alle alte e alle altitudini. Quindi bisogna capire un po' l'evoluzione modellistica step by step, quindi ogni settimana aggiornarci e vedere un po'. Siccome che, insomma, magari molti esperti dicono che quest'anno si prevede un inverno più rigido, meno rigido, più piovoso, meno piovoso. Io diffido da chi dice questo perché, ripeto, le previsioni stagionali sono molto sperimentali, non hanno un'attendibilità, io ho visto previsioni ribaltarsi completamente rispetto a quello che dicevano. Io ho un atteggiamento diciamo più prudente, nel senso che il mio focus è a 10-15 giorni e poi, che già è tanto, insomma. Quelle più attendibili sono 48 ore. Esatto, figuriamoci a 10-15 giorni e poi capire man mano l'evoluzione dei vari parametri meteorologici, come si vanno ad incastrare. Va beh, allora, diciamo che si può andare con le auto pulite, si può andare a lavar l'automobile per i patiti della macchina lucida. Insomma, a Natale non avranno problemi di fango, di pioggia, la macchina potrà essere pulita dentro e fuori. Massimo, vi dice alla fine sarà un sereno Natale in tutti i sensi, con cielo sereno o a massimo velato, però come hai detto tu, l'aspetto familiare dello stare insieme o al di là del tempo, se è freddo, nebbica, piove, c'è nebbia, cioè il Natale appunto è il focolare familiare. Con queste belle giornate è facile che magari venga anche gente da fuori a vedere altra mura, ad ammirare quanto è stato messo in scena per questo Natale, perché abbiamo pieno di eventi, insomma, credo che, non so, il corso ha 14 eventi contemporanei, cioè ci saranno problemi di ordine pubblico, cioè proprio una cosa del genere, nessuno se la sarebbe esonante, ne abbiamo già parlato anche con Filippo Ciaccia di Amaltea e loro durante Natale sono sempre iperattivi e, ahimè ragazzi, quest'anno è andata così, mettiamoci l'anima in pace e speriamo in tempi migliori. Forse andremo nella vicina Gravina che ho visto che ha un palinsesto natalizio eccezionale quest'anno, ho visto veramente tanti eventi. Sanno il nuovo sindaco e quindi è giusto che, insomma, dopo due mandati del centro-sinistra adesso c'è un nuovo sindaco. Quindi si ha un tocco di cambiamento. Deve far vedere che, insomma, un cambio di passo rispetto alle... Ma che ben venga l'alternanza se questa diventa positiva e costruttiva. E' un buon segnale, vuol dire che si vuole far meglio rispetto al precedente. Auguri di Buon Natale anche agli amici che ci seguono alla Gravina, sappiamo che sono tanti, auguri a tutti quelli che ci seguono in Puglia sul Canale 90 del Digitale Terrestre. Auguri anche a te Michele. Grazie mille, Felice, per l'invito. Auguri ai telespettatori di Canale 2. E tutto, ci vediamo dopo Natale perché noi continueremo con Canale 2 C'è e con Chichi Ricchi, anche fra Natale e Capodanno. Alla prossima.